Il Palazzo delle Arti di Napoli ha fatto da cornice, metafora più che mai calzante visto che il premio, giunto alla seconda edizione, è intitolato a Caravaggio rivoluzionario della pittura. Ad aggiudicarselo personalità che si sono distinte nel mondo dell'arte, della scienza e della cultura, spinte da uno spirito di divulgazione della bellezza. Gennaro Famiglietti per la sezione diritti umani, Antonella Carpenito per la musica, Andrea Guanci, Ambiente, Giuseppe Catapano, Istruzione e Claudio Ciccarone, giornalista della TGR Campania, per la sezione comunicazione. Rappresentano le eccellenze napoletane nei vari linguaggi e nei vari modi di operare nella città di Napoli, nella campagna a livello nazionale. Il premio Caravaggio, promosso dall'associazione Social Future Project Italia, nei prossimi anni toccherà anche Roma e la città in provincia di Bergamo da cui ebbe origine lo pseudonimo del pittore. Napoli però resterà sede finale col suo contrasto di luci ed ombre in cui si specchiò l'arte di Michelangelo Merisi.